Ascolta la voce del tuo pastore. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi, leggiamo insieme Marco 12, 28 fino al 34. Allora si avvicinò a lui uno degli iscrivi che li aveva uditi discutere e visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di Lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che Egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse, non sei lontano dal regno di Dio e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Amen. Carissimi, domenica scorsa avevamo udito un Vangelo, sempre da Marco, dove la figura, la persona di Bartimeo, questo cieco, aveva riacquistato la vista e seguito Gesù fino a Gerusalemme. Qui siamo già nella città santa, siamo a Gerusalemme e Gesù ha alcuni colloqui con le persone, discussioni, tra le quali questo scriba che viene, già aveva udito parlare il Maestro e chiede qual è il primo di tutti i comandamenti. Noi sappiamo che a quel tempo, per far rispettare la legge mosaica, le scuole rabbiniche avevano formulato più di 600 precetti che avrebbero aiutato quindi ad osservare strettamente l'alleanza data da Dio a Mosè per il popolo di Israele. Ecco perché gli chiede tra tutti i precetti, Maestro, qual è il più grande? È una domanda molto precisa, è una domanda a cui nemmeno noi sapremo rispondere con così grande varietà di precetti e di risposte, ma Gesù dice il primo è Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Quindi Gesù cita lo Shumma Israele, Deuteronomio capitolo 6, quella preghiera che gli ebrei conoscevano e recitavano a memoria al mattino e alla sera. Ma in più Gesù dice qual è il secondo comandamento più importante, citando il Levitico capitolo 19 Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Gesù quindi unifica, mette insieme due comandamenti, dicendo certamente il più importante è amare Dio, metterlo sopra ogni cosa, ma attenzione perché Dio ha comandato di amare il prossimo, ha fuso questi due comandamenti in uno solo, dove in realtà c'è qualcosa che precede tutto questo. Lo abbiamo appena letto, Ascolta Israele. perché prima ancora di parlare di comandamenti, prima ancora di parlare di precetti, di una legge da osservare, noi dobbiamo fare un'esperienza, l'esperienza che il popolo di Israele ha fatto, concreta, storica nella nostra vita. Ha incontrato un Dio che si è rivelato, un Dio che ha parlato chiaramente, precisamente, al quale tutto il popolo di Israele ha ascoltato. Apposto l'orecchio, Shumma Israele. Ascolta Israele. Questa è la via. Cari amici, quindi oggi certamente potremmo parlare di amare Dio sopra ogni cosa, amare il prossimo, ma io dico ancora prima di tutto questo andiamo incontro a Lui, mettiamoci di fronte a questo pastore. Dio per Israele è il pastore, il pastore di Israele, colui che parlava, colui che guidava il suo popolo per la via e la strada della luce. Anche per noi sono importanti queste parole. Ascolta. È un senso, lo abbiamo visto anche domenica scorsa, nel Vangelo di Marco ci sono i sensi dell'udito, i sensi del parlare, la guarigione del sordo muto e il senso del vedere, la guarigione del cieco, Bartimeo, tutte caratteristiche del catecumeno, colui che incontra Gesù e rinasce a vita nuova. È essenziale però ascoltare perché molto spesso noi potremmo vedere, essere spettatori di qualcosa ma ciò che caratterizza la fede dell'Antico Testamento nella Prima Alleanza e la fede dei discepoli con Gesù e la fede nostra è l'ascolto nella misura in cui tu e io ascoltiamo la parola di Dio. Le parole di Gesù non solo siamo suoi discepoli ma anche pecore sue ma rispettare un precetto ama gli altri, ama Dio ma tu non ascolti mai Dio non ascolti mai la sua parola. quanti di noi abbiamo a casa la Bibbia non dico il breviario perché il breviario che è un bellissimo libro dove ci sono tanti versetti tanti spezzoni della Bibbia va bene la Bibbia una tua Bibbia personale dove tu ogni giorno incontri Dio incontri è questo pastore che ti dice amami sopra ogni cosa io sono il Signore tuo Dio io ti ho liberato dalla schiavitù perché è questo che dice prima ancora di tutti i comandamenti io sono il Dio che ti ha liberato ascoltiamo carissimi amici la voce di Dio è una voce che ci guida altrimenti saremo pecore che non hanno mai udito la sua voce che hanno creduto di seguire qualche via ma non hanno mai fatto esperienza Dio ci chiede invece di ascoltarlo e quando lo ascoltiamo sentiamo di amare gli altri come lui ha amato noi e di amare il prossimo come lui continua ad accogliere le nostre fragilità i nostri peccati Signore grazie per questa parola aiutami ad essere obbediente a te ma soprattutto aiutami dal mattino ad avere un orecchio attento alla tua voce Gesù io voglio essere una tua pecora e riconosco di essere pecora nella misura in cui ascolto la tua voce Gesù donami un cuore aperto disponibile a te per cambiare secondo quanto tu anche oggi mi hai detto a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli ame cari amici accogliamo con grande gioia lo slogan di oggi ascolta la voce del tuo pastore questa è la via dei discepoli questa è la via delle pecore amate di Dio ascoltarlo quindi se non avete la Bibbia compratevela una vostra personale e leggetela e saremo pecore di Dio e lui davvero sarà il nostro pastore grazie per avermi accolto ci vediamo domani ciao per coloro che sono nel nord Italia avremo domenica 17 novembre a Torino e a Strona domenica 12 gennaio il corso preghiera e animazione carismatica un corso dove noi proporremo alla luce della nostra esperienza come coinonia Giovanni Battista la preghiera nello spirito santo usando i carismi alla luce della parola di Dio le iscrizioni sono sempre aperte sul nostro sito web iscrivetevi grazie a tutti Grazie a tutti.